Cari telespettatori, benvenuti alla decima puntata di Occhio al Voto, il programma di Fano TV dedicato all'informazione politica locale. Questa sera, a soli tre giorni dall'appuntamento con le urne, ospitiamo in diretta i tre candidati sindaco di Fano. Do il benvenuto a Cristian Fanesi del Partito Democratico, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, buonasera. Stefano Marchegiani di Azione, candidato sindaco della coalizione Progressisti per Fano 2050, benvenuto. Buonasera. Buonasera anche a Luca Serfilippi della Lega, candidato sindaco della coalizione di centrodestra per Fano. Buonasera a tutti. Passiamo ora ai colleghi che mi affiancheranno per questa puntata, Silvano Clappis, giornalista del Lanza e Lorenzo Furlani, giornalista del Corriere Adriatico. Grazie per la vostra presenza. Avevamo annunciato anche la presenza di Anna Marchetti, giornalista del resto del Carlino, però non ha potuto presenziare per motivi familiari. Passiamo ora a una breve biografia dei candidati. Cristian Fanesi, 47 anni, è laureato in ingegneria ed è sposato con Monica, con la quale ha avuto due figlie, dipendente della Saipem in aspettativa e attuale vicesindaco e assessore. Fanesi è appoggiato dalla lista civica F più Europa, dal Partito Democratico, noi civiche Fano, Fanesi sindaco e in comune con mascarine. Stefano Marcheggiani, 66 anni, è laureato in architettura, è un architetto libero professionista e già insegnante di storia dell'arte. Coordinatore di azione a Fano e attuale consigliere comunale con delega al Museo del Carnevale e al Museo del Teatro Romano. In questa tornata amministrativa è appoggiato da Movimento 5 Stelle, Allianza Verdi Gribella, PSI, Bene Comune e la Fano che vogliamo. Luca Serfilippi, 36 anni, è fidanzato con Francesca e babbo di un bimbo di un anno. Ha conseguito una laurea in economia e management ed è dipendente dell'azienda Profilas in aspettativa. Appoggiano la sua candidatura Fratelli d'Italia, Fano Cambiapasso, Forza Italia, Civici Fano e Lega. Vi ricordo che per garantire la Parcondice utilizzeremo un timer. Per ogni risposta, ad eccezione dell'ultima, avrete due minuti a disposizione. Ora iniziamo con le domande. Lorenzo, prego. Sì, buonasera. Cominciamo con Cristian Fanesi. Lei arriva alle elezioni dopo aver vinto le primarie del centro-sinistra per soli tre voti con il suo competitore, Mascarin, in vantaggio al primo turno che in tre sezioni ne ha addirittura persi 16. Inoltre lei si è detto fiero del lavoro svolto in quest'ultima consigliatura sul nuovo PRG che è stato adottato poco tempo fa, appena il 20 aprile, col voto decisivo di Stefano Marcheggiani, il suo attuale avversario candidato sindaco e della consigliera di sinistra che non condividendo alcune scelte cruciali del piano regolatore generale sia astenuta, ma non è uscita. Se solamente uno dei due consiglieri appena nominati fosse uscito, sarebbe saltato il Consiglio Comunale per il venir meno del numero legale e il suo lavoro di cui è fiero sarebbe andato in fumo. Quindi politicamente Fanesi lei si sente, si ritiene più forte o più fortunato? Allora vorrei sostenere che il piano regolatore che noi abbiamo portato in adozione definitiva nell'ultima fase della scorsa legislatura è comunque un lavoro collettivo iniziato da tempo e che ha attraversato anche periodi in cui era molto difficile poter parlare con le persone e l'abbiamo adottato per la prima volta nel novembre 2023. È un lavoro di cui vado fiero e credo sia una convenienza per tutta la città di Fano perché affronta dei temi molto importanti e cerca di trovare soluzioni alle tante tematiche appunto che in questa città erano ancora risolte. Sono una persona fortunata, un politico fortunato? Sì, forse è così come lei dice, devo dire che però le primarie hanno visto la partecipazione consistente di oltre di molto più di 10% della base elettorale di Fano, 3.000 persone e credo che questo comunque sia una questione e un punto a mio vantaggio anche nel confronto con i miei avversari che invece sono stati scelti in altro modo, legittimo ma meno partecipato. Stefano Marchegiani, in un passaggio delle fasi preelettorali un po' convulse dei mesi scorsi lei aveva dichiarato, non condividendo le primarie del centro-sinistra, che avrebbe sviluppato un confronto con chi le avesse vinte, ma poco tempo dopo è passato al campo avversario dei progressisti ritrovandosi addirittura a guidarlo come candidato sindaco. Un'alleanza questa abbastanza eterogenea, il suo principale alleato il Movimento 5 Stelle su questioni fondamentali per la città negli ultimi 10 anni è stato separato da lei da un profondo solco politico, basta ricordare oltre ad altri temi di cui parleremo in seguito, il piano regolatore generale già citato che i 5 Stelle hanno cercato fino all'ultimo di far saltare, facendo venire meno il numero legale del Consiglio Comunale, e la strada per Gimara di cui lei ha approvato tutti gli atti mentre il suo attuale alleato alzava le barricate. Quindi come pensa di garantire la coesione politico-amministrativa se dovesse vincere le elezioni? Non alla fine del mandato, quando abbiamo visto che le amministrazioni a guzzi e seri si sono sfaldate, ma dall'inizio, considerando queste visioni, queste prassi profondamente diverse. Ma diceva bene, c'è stata una fase convulsa nei meccanismi pre-elettorali per stabilire le alleanze. Noi avevamo un gruppo che è stato in maggioranza con una coscienza critica, appoggiando molti i provvedimenti della maggioranza, ma astenendoci addirittura votando contro su altri su cui non eravamo d'accordo, evidentemente questo è l'atteggiamento anche della mia forza politica, nell'interesse dei cittadini sostanzialmente. Quando si è andati a stabilire lineamenti di un'alleanza per il futuro, io ho posto dei problemi programmatici, non ho messo veti sulle primarie nel rispetto della volontà del centro-sinistra, pregando solo che venissero fatte non così tardi, perché era opportuno che io riferissi alla mia parte politica che era l'interprete sindaco di quella coalizione. Queste due condizioni, parlare del programma, alzare l'asticella su alcuni punti che come metteva in evidenza lei avevano messo in crisi anche l'unità della maggioranza, non c'è stato ascolto e quindi sono stato invitato anche una sera dall'assessore Mascarin di continuare le consultazioni per conto mio, per conto della mia parte politica di azione, cosa che ho fatto nel rispetto di tutti e ho cominciato a frequentare ovviamente tutti gli incontri, perché ricorderete incontri addirittura con De Leo dove venivo invitato, andavo a parlare di programma, di progetto e questo è il nostro taglio politico. Di qua ci siamo trovati d'accordo nonostante le differenze, i solchi che avevano distinto l'atteggiamento dei partiti che mi hanno eletto come interlocutore privilegiato a quel punto dopo tre giorni di intenso seminario programmatico, ma ci siamo detti una cosa, tiriamo una linea su quello che è stato, che avranno strascio anche negli ultimi consigli comunali, indubbiamente perché c'è modo di spiegare la coerenza delle varie posizioni, così è stato e se ci sarà modo spiegherò il caso del piano regolatore, del mio voto convinto a favore nel vantaggio dei fanesi, e non me ne voglio a fanesi non di fanesi, rispetto ai 5 Stelle. Luca Serfilippi, abbiamo visto lo scorso anno come il centrodestra che lei guida abbia impiegato più di sei mesi per convincerlo ad accettare la candidatura a candidato sindaco, addirittura lei parlò con il segretario nazionale del suo partito, la Lega, Matteo Salvini, per dirgli che non se la sentiva perché aveva avuto con la sua compagna un bambino da poco tempo e aveva già l'impegno assunto con gli elettori del Consiglio regionale. Quindi ora lei come pensa di convincere gli elettori a dare il loro voto a lei come candidato sindaco? Da dove ha preso le motivazioni, dove ha trovato le motivazioni per garantire alla città l'impegno di un sindaco che, con queste premesse ovviamente, che è totalizzante o quasi? Beh, fare il sindaco per una persona che fa politica è la cosa più bella che ti possa capitare nella propria vita. Devo dire che rispetto a settembre dello scorso anno, quando ero un partito che me lo chiedeva, a gennaio me l'ha chiesto tutta la coalizione di centrodestra, quindi tutti i partiti uniti hanno condiviso la mia candidatura sindaco. Questo mi ha reso orgoglioso di questa scelta e insieme dal 22 febbraio abbiamo iniziato una maratona in tutti i quartieri della nostra città, incontrandoli da Roncosambaccio, Carignano, piuttosto che Ponte Sasso, Metà Auriglia. Abbiamo fatto una carellata di quartieri in cui abbiamo ascoltato le persone e tutti ci hanno mostrato la difficoltà che hanno avuto in questi anni nel proprio farci ascoltare dall'amministrazione. Per me è stato un cammino faticoso questi tre mesi, ma molto bello, molto bello perché mi ha arricchito di entusiasmo e forse è stato anche questo entusiasmo che mi ha convinto insieme all'unità del centrodestra che non era scontata, che invece è forte e c'è una coalizione molto unita e compatta, unita sia nel programma sia sul mio nome, che è il programma che abbiamo condiviso con tutti gli alleati e presentato in maniera trasparente alla città. Devo dire che l'entusiasmo della gente è anche quel fattore che mi ha convinto ad accettare la candidatura perché ovunque andavo le persone mi chiedevano Luca per favore candidate sindaco perché abbiamo bisogno di una persona giovane, fresca, che ha voglia di cambiare questa città. Ho accettato questa sfida, devo dire che sono stati tre mesi bellissimi e mi auguro di passarne altri cinque insieme ai cittadini fanesi da sindaco. Anni? Cinque anni, scusate, sì. Ora passiamo alle varie tematiche che riguardano la nostra città, Sivan. Parliamo di infrastrutture, fermo restando che credo che siamo tutti d'accordo che una delle priorità riguardo alle infrastrutture sia quella di dotare Fanno di un nuovo spala sport, specie dopo la promozione del Virtus Volley in A2. Volevamo mettere l'accento soprattutto sulle strade, sulle piste ciclabili, anche per rendere una Fanno molto più vivibile come è nei vostri programmi e soprattutto una Fanno a misura d'uomo e a misura di bambino, visto che siamo anche la città dei bambini. Però in particolare quello che ci interessa soprattutto è che fine farà gli interquartieri, questa strada che oggi come oggi termina davanti ai campi da tennis. Quindi come pensate di realizzare un collegamento con Pesaro che sia alternativo alla statale. Ovviamente mi rivolgo per primo a Luca Marcheggiani, a Stefano Marcheggiani perché, come ha detto prima il mio collega, in questa fase di approvazione della variante di Gimarra lei come consiglieri di maggioranza aveva votato a favore della strada. Ecco, oggi c'è un ripensamento oppure conferma questa decisione? Allora, facciamo chiarezza. Io ho votato a favore della strada nella prima versione per attivare uno studio tecnico e di fattibilità. Gli studi tecnici di fattibilità devono dimostrare dopo un accurato lavoro di indagine la fattibilità e quindi l'impatto ambientale e la sostenibilità economica di un'opera. Quel primo progetto aveva un problema, 15 milioni di euro in meno di quelli preventivati e quindi è stato accantonato. Poi ho seguito anche ovviamente la richiesta di fare una variante più complicata, probabilmente meno costosa, che passava all'interno del parco della trave, questo era il tema. Fin lì sono arrivato, ma poi quel progetto è arrivato fuori tempo massimo per una proroga e prevedeva un appalto al buio, cioè la finanziabilità dell'opera, prevista in 25 milioni, 20 di finanziamento e 5 milioni da parte del Comune, doveva coprire una spesa che non era preventivata, perché il progetto esecutivo l'avrebbe dovuto fare la ditta che, aperte le buste, che ancora sono chiuse, avrebbe preso l'onere di fare il progetto esecutivo e il computometrico estimativo. Non sappiamo quindi i costi, ancora oggi non sappiamo i costi. Io li ho votato contro perché il rischio di default, supponiamo fosse venuto fuori un importo di 7-8 milioni di euro, 10 milioni di euro in più, e in quelle situazioni con ponti, su fiumi, gallerie, eccetera, gli imprevisti possono essere alla portata di tutti, ma soprattutto un preventivo fatto da un'impresa. Io li ho votato contro e recentemente, in fase di deduzione delle osservazioni e contro deduzioni, ho votato anche per eliminare quel tracciato dal piano regolatore, perché i tempi ci hanno insegnato che questa è una strada che non era dimensionata economicamente, aveva molti imprevisti ed è bene ragionare nei termini dei due casellini che nel 2025, almeno quello di Fano sarà pronto, quello di finire, speriamo anche quello di Pesaro, per verificare l'alleggerimento sulla deriatica e armonizzare nuove strategie di collegamento. Luca Serfilippi, alcuni componenti del comitato di Gimarra che si opponeva quindi alla variante, sono candidati nelle sue liste, l'abbiamo visto, quindi le chiedo se è favorevole o meno al proseguimento degli interquartieri, oppure se ha soluzioni alternative anche pari a quelle che ha detto adesso Marchigiani, oppure ancora diverse? Noi siamo gli unici che abbiamo sempre votato contro alla variante Gimarra perché pensavamo e avevamo ragione che il progetto non sarebbero bastati i famosi 20 milioni di euro, purtroppo sono stati illusi in questo caso i cittadini di Gimarra che hanno un problema reale di viabilità anche dovuto a un eccessivo permesso di costruire in quella zona, però del resto noi siamo sempre stati contrari sia nel merito che nel metodo perché rovinare una delle colline più belle affacciate sul mare della nostra città a nostro avviso era dannoso per tutta la città di Fano e abbiamo sempre votato contro, purtroppo Fano rimarrà nella storia per aver perso 20 milioni di euro dovuti a divisioni all'interno della maggioranza di centrosinistra di cui i miei competitors facevano parte fino a qualche mese fa. Dopodiché è chiaro che c'è un problema di viabilità assolutamente sì verso nord, è intenzione nostra andare avanti con i casellini sia di Fenile che di Santa Veneranda di Pesaro che sicuramente alleggeriranno il traffico a nord. Valuteremo un'eventuale strada alternativa verso nord ma noi abbiamo provato in tutti i modi a salvare i 20 milioni come regione Marche spostandoli su Fano Sud. Fano purtroppo, il comune di Fano, l'amministrazione siccome era un cavillo, proprio una battaglia che aveva portato avanti il Partito Democratico, in particolar modo Minardi non hanno ceduto su questo fronte, a nostro avviso è importante, abbiamo messo addirittura 50 milioni di euro come regione Marche per la variante Sud per togliere di fatto la strada Adriatica che purtroppo è molto pericolosa e quindi arretrarla e quindi di fatto fare una variante Sud che parte da Tombaccia e arriva fino a Metauriglia, Torrette, Ponte Sasso, Marotta. Inoltre io mi auguro di rimanere, come posso dire, di essere il sindaco delle ciclabili perché a nostro avviso è importante rivedere tutta la viabilità della nostra città. Bene, grazie Sir Filippi. Cristian Fanesi ovviamente l'ha sentito anche adesso, l'accusa che si fa all'aggiunto uscente di cui è vice sindaco è quello di aver perso 20 milioni di euro di finanziamenti proprio per questa variante. Ecco, come pensate voi di rimediare? Allora alcuni elementi di chiarezza, mi permetto, quei 20 milioni erano destinati a un collegamento verso nord e migliorare il collegamento verso nord della città di Fano. Non ho sentito grandi alternative. La strada interquartieri che attualmente finisce dentro il circolo tennis del nostro comune deve proseguire per collegarsi alla Statale 16. Io ritengo che questo sia un progetto che trova soluzione al grande problema della sicurezza e del traffico intensissimo che da Porta Maggiore prosegue verso nord. Non ci sono alternative alla Statale 16. Inoltre abbiamo un problema molto serio riconosciuto da tutti, soprattutto dai residenti del quartiere che ho incontrato anche recentemente, che è quello di migliorare la viabilità nella zona di Gimarra, dove sono stretti e sono obbligati a uscire tra due strade molto piccole, via del Carmine e via di Villa Giulia. Dunque la strada interquartieri è una soluzione al problema dell'alternativo alla Statale 16 verso nord. Non esistono altre soluzioni in particolare fantasiosa, del tutto fantasiosa, la possibilità di farne una complanare lungo la Statale 16, lungo la 14. I due caselli che verranno fatti a fan nord e fenile rappresentano comunque una possibilità per migliorare il traffico, ma noi siamo fermamente convinti che serve la strada interquartieri. Fra l'altro il sottosegretario Morelli, venuto a Fano qualche giorno fa, invitato dalla Lega, ha appunto detto che i soldi si possono recuperare, ovviamente siamo in competizione con altri comuni e questo è quello che cercheremo di fare per migliorare la sicurezza e la viabilità nello scacchiere nord della città di Fano e dare un'alternativa al quartiere di Gimarra che nel frattempo, grazie ai permessi che ha rilasciato anche Luca Serfilippi quando era in giunta con Aguzzi, sta crescendo molto. A differenza dei colleghi questa sera mi farò portavoce di alcuni portatori di interesse della nostra città, il tavolo economico, il terzo settore e il comitato dei residenti del centro storico. Giovanni Di Bari, referente del terzo settore, vi pone queste domande. In considerazione del recente incontro con il terzo settore locale promosso dalle ACLI, nel quale avete sottoscritto una dichiarazione che vi impegna nell'istituzione di una delega assessorile sullo sviluppo dell'amministrazione condivisa e sui rapporti con il terzo settore, nella convocazione degli stati generali del welfare, nell'approvazione di un patto per l'amministrazione condivisa e di un regolamento sulla coprogettazione. Come intendete programmare le responsabilità assunte e in che modo pensate di valorizzare il lavoro fatto dal terzo settore? Luca Serfilippi. Innanzitutto riprendo 15 secondi per dire che punterò veramente sulla fanocità dei bambini e delle bambine che sono state trascurate in questi anni e che invece vanno valorizzate e soprattutto vanno ascoltati tutto l'anno, non solamente con una festa all'anno. Detto questo per quanto riguarda invece il terzo settore hanno ragione, io li ho incontrati, li abbiamo incontrati anche con il ministro alla disabilità, purtroppo il tavolo del terzo settore è stato utilizzato solamente per di fatto condividere azioni già compiute dall'amministrazione comunale. Penso ad esempio il tema dell'azienda di servizio alla persona che va riformulato, va riformulato con una coincidenza tra ambito sociale e distretto sanitario. È importante ascoltare, coprogrammare e coprogettare con tutti i soggetti del terzo settore tutte le associazioni che danno una grande mano al comune per i servizi sociali. Io immagino dei servizi sociali più umani e meno burocratici. Voglio cambiare rotta per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche sia quelle pubbliche, quindi degli edifici pubblici, sia quelli privati, perché purtroppo fanno non è accessibile. L'ho toccato con mano in questo anno da papà, purtroppo molte strade, molti negozi, ma anche molti uffici comunali non sono accessibili e serve un cambio di rotta forte. Anche addirittura lavori pubblici eseguiti purtroppo sono con barriere architettoniche. Detto questo è importante quindi la figura del Disability Manager che istituiremo nei primi 100 giorni e servirà un cambio di rotta proprio nel coprogrammare insieme a tutte le associazioni, enti, fondazioni che operano nel terzo settore. Un impegno che mi prendo è quello di realizzare il centro Alzheimer insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pano. Cristian Fanese, è d'accordo, è necessario questo cambio di rotta rispetto al lavoro che avete fatto fino ad oggi? L'ho detto, l'ho sottoscritto, nel welfare locale servono alleanze e non contrasti. E allora farò di tutto affinché ci sia un'alleanza tra amministrazione comunale e enti del terzo settore, affinché si possa arrivare a una coprogettazione, a una coprogrammazione delle tante cose che l'ambito sociale svolge nella nostra città e nel nostro territorio. Lo confermo, vorrei un delegato che possa, dal sindaco, che possa seguire lo sviluppo dell'amministrazione condivisa sulla scorta dei modelli che abbiamo già studiato come quello di Bologna e Reggio Emilia. Farò subito dopo essermi insediato degli stati generali su welfare per capire qual è la situazione e quali sono le prospettive. Stabilirò un regolamento chiaro all'interno di una cornice normativa che si è consolidata attraverso la norma sul terzo settore e attraverso le decisioni, le linee guida prese dalla Corte Costituzionale e le linee guida del Governo del 2021. Faremo un regolamento per trovare corrispondenza con le necessità, con le richieste degli enti del terzo settore e una priorità che io mi pongo è anche quella di arrivare a offrire servizi erogati in forma, come dire, conveniente, adeguati ai bisogni delle persone, soprattutto cercando di agevolare le piccole realtà associative e cooperative. Fano quindi su questo tema deve fare di più e fare ancora meglio. Lo strumento che abbiamo scelto e che ribadisco è soltanto uno strumento potrebbe essere quello dell'azienda per i servizi alla persona, in quanto se diretta in maniera corretta può dare grandi risultati. Stefano Marchegiani, sulla base degli impegni assunti, quale sarà invece il vostro cronoprogramma? Beh, innanzitutto partiamo da quello dove si è arrivati. Si è arrivati a un blackout inspiegabile, grande ritardo nelle cose che andavano fatte, siamo stati di nuovo superati da Pesolo che ha fatto sia il patto col terzo settore che il regolamento, col terzo settore pur partendo dopo. Qui c'è Riccardo Mariani che è un consulente esperto nominato dal terzo settore che ha già prodotto una bozza di patto e una bozza di regolamento. Cosa bisognava fare? Bisognava fare in tempi veloci, prima di andare al voto, nominare un comitato scientifico di quattro esperti, ne sono stati nominati due, fare una riunione in tempo utile. La riunione è stata fatta, che validasse questi strumenti. La riunione è stata fatta il 30 maggio, gli esperti invece di 4 erano 2, l'assessore ha detto non ce la facciamo più, si va a votare, se ne occuperà la prossima amministrazione, anzi le prossime amministrazioni perché poi c'è l'assemblea dei sindaci che deve validare tutto, per cui vi lascio una dirigente che ha seguito il tutto, gli assessori passano, i dirigenti restano. Quindi partiamo da una situazione molto grave perché due anni e mezzo fa circa c'è stato un dibattito in Consiglio Comunale su cui ci siamo distinti noi, per tornare alla prima domanda, siamo distinti perché quel modello di azienda che noi non demonizziamo, la parola azienda non è che ci piaccia moltissimo il servizio alla persona, ma non demonizziamo, era un modello quasi monocratico, mancava un collegio di revisori, mancava un CDA, c'era un presidente, un direttore tecnico che gestiscono dai 12 ai 14 milioni di euro l'anno, quindi secondo noi un deficit di democrazia nonostante l'assemblea di sindaci, ma come sappiamo nove sindaci con profili di comunità differenti hanno bisogno anche di una relazione con un controllo di più persone per avere una sintesi. Noi rilanciamo con gli stati generali della cultura, dicendo che la coprogrammazione e la coprogettazione non sono degli ammennicoli, ma sono degli elementi fondamentali che bisogna iniziare subito col terzo settore. Dal terzo settore, Lorenzo passiamo ad Aset. Bene, Fanesi, si avvicinano le scadenze delle gare europee per il servizio idrico nel 2028 e il servizio dei rifiuti nel 2030. La concessione del gas è già scaduta e si è in attesa della gara provinciale che deve essere bandita dal Comune di Pesaro. Il Partito Democratico, che è il suo partito, su base provinciale da sempre spinge per la fusione tra Aset e Marche e Multiservizi per creare l'azienda unica provinciale. Nel suo programma, se non sbaglio, c'è scritto che si difenderà l'autonomia di Aset. Come può garantire che queste non saranno parole al vento, considerando che questo impegno lo assunsero tutti i candidati a sindaco anche cinque anni fa. Ma poi, durante questa consigliatura, di fronte alla nuova offensiva di Pesaro, la sua maggioranza, il centro-sinistra, si è spaccata. E se Aset è rimasta autonoma e tutta pubblica è perché una parte del PD, che non è la sua parte, in Consiglio Comunale ha fatto muro con la sinistra e con le opposizioni del Movimento 5 Stelle e del centro-destra. Nei prossimi anni, se sarò sindaco, farà tutto quanto necessario e conveniente all'azienda Aset e ai nostri concittadini. La fusione non è all'ordine del giorno. Fra l'altro, in questo momento, Marche Multiservizi ha altro a cui pensare, ad esempio Ricceci. E approfitto anche per dire che la gestione dei rifiuti a livello provinciale deve trovare una nuova configurazione. Io ho votato sempre contro alla possibilità chiesta da Marche Multiservizi nel chiudere le due discariche presenti in questo momento nel nostro territorio, Pesaro e Urbino. e dunque difenderò Aset come è meglio e più conveniente per i nostri concittadini. Non c'è nessuna fusione all'ordine del giorno, c'è invece, quello che credo sia opportuno, alleanze per poter partecipare insieme alle gare che lei ha citato, ovvero quella del servizio idrico integrato e quello della raccolta dei rifiuti. Un'altra cosa che vorrei anche sottolineare, noi siamo favorevolissimi e crediamo che in questa provincia debba aumentare la raccolta differenziata, anche in comuni, non in nostro per fortuna, che comunque conferiranno in un futuro nelle discariche provinciali. Marchegiani, lei era tra i più convinti assertori della necessità di superare l'attuale assetto delle due aziende dei servizi in provincia, Aset e Marche Multiservizi, in vista appunto delle gare. Ora come candidato a sindaco lo appoggiano i 5 Stelle che ritengono al contrario ferale l'unione con Marche Multiservizi. Quale punto di caduta avete trovato e quindi cosa propone per affrontare le gare dei servizi in condizioni di competitività con i colossi che caleranno sul nostro territorio? Ma innanzitutto la risposta è semplice, se non ci sono alleanze Aset è persa. Se perdiamo una gara, come quella dell'idrico, non c'è prospettiva industriale. Questo non vuol dire fusione, io non ho mai parlato di fusione, anzi negli atti noi abbiamo sempre, noi la mia parte ha sempre difeso la indipendenza, l'autonomia di questa azienda. Facciamo un esempio, nel 2017 per incorporazione c'è stata una fusione, quella con la Holding, che ha rafforzato, ha capitalizzato l'azienda e l'ha resa molto meno appetibile sul mercato perché ne ha aumentato il valore e quindi le OPA lanciate, sappiamo bene da chi, sull'acquisto di Aset con anche grandi somme che sarebbero state consumate però nel giro di pochi anni quindi non ci interessava, questa operazione l'ha sventata, abbiamo messo in sicurezza l'azienda di Fano. Adesso c'è il futuro e se parliamo con i dirigenti di Aset, la cui politica aziendale è stata fermata negli ultimi anni, Aset non ha avuto nessuna intraprendenza per stabilire rapporti, abbiamo rinunciato un biodigestore finanziato, dobbiamo aprirci al mercato con collaborazioni coordinate, anche con coinvestimenti che cementono le alleanze. Con chi le vogliamo fare con le alleanze? Andando a cercare partner e colossi esterni o cominciando a guardarci nel territorio se ci sono le condizioni. Vanno esplorate queste situazioni. Quindi non spaventiamo nessuno con la parola fusione, nessuno cede la sovranità, ci possono essere accordi di pari dignità perché Aset ha un suo know-how tecnologico, ha un interesse per chi ci guarda da vicino e io direi iniziamo un dialogo con le aziende che condividono il territorio e anche i clienti, perché questo mi pare una cosa accettabile. Dopodiché questa azienda nella unica fusione che ha fatto ha aumentato i bilanci, ha razionalizzato e ha fatto sistema tra dirigenti e dipendenti e se noi parliamo con sindacati e con dirigenti ci dicono che è bene guardare con fiducia il futuro senza spaventapasseri. Certo, infatti era la fusione tra le due aziende partecipate dal Comune di Fano. Ser Filippi, lei su questo tema può vantare la coerenza politico-amministrativa della sua coalizione dal 2007, quando il centrodestra fece saltare il tavolo di confronto con Megas e Aspes, allora si chiamava così, Multiservizi, per creare l'azienda unica dei servizi provinciali. Allora nacque Marche Multiservizi. Però le situazioni evolvono e le idee cambiano, perché ci si ricorda la reprimenda pubblica di alcuni anni fa dell'assessore regionale Stefano Aguzzi di Forza Italia sul localismo di Fano e la necessità, disse, di collaborare sull'ambiente proprio con Marche Multiservizi. Quindi può ora garantire che la sua coalizione sarà coesa nella difesa dell'autonomia di Asete e comunque le gare, come si affrontano? Allora, il tema di Asete è un tema molto importante, sulla quale a mio avviso serve trasparenza, perché è quella che è mancata in questi ultimi anni, ovvero con una riunione a tavolino fuori dalla nostra città, si era deciso sul futuro dell'azienda e dei dipendenti. Questo è stato sventato grazie a una parte della maggioranza che fa capo a Mascarin, una parte, anzi tutta l'opposizione, quindi tutto il Movimento 5 Stelle e il centrodestra unito che ha fermato, insieme anche a una parte del Partito Democratico, questa scelta di appunto fondere Asete con Marche Multiservizi. Girava proprio un foglio, anzi probabilmente uscito proprio grazie a Furlani del Corriere Adriatico. Quindi è chiaro che sui rifiuti serve trasparenza da parte della politica, sappiamo tutti benissimo, prima è stato citato riceci, quando qualcuno sceglie nel caso di riceci Marche Multiservizi avvallata dal Partito Democratico che detiene le quote di maggioranza di tutta Marche Multiservizi, quindi tutti sapevano di riceci e poi, visto che si avvicinavano le elezioni, tutti sono andati contro riceci. Io non so come sia andata fino in fondo quella vicenda, di certo la politica sui rifiuti va condivisa in maniera trasparente con i cittadini della nostra città, con i cittadini di tutta l'assemblea di ambito territoriale, mi auguro che l'ATA non sia più provinciale ma venga allargata, su questo devo dire che mi auguro che la Regione faccia qualcosa per ampliare a livello interprovinciale, quindi Pesaro e Ancona, per far sì che insieme alle aziende presenti ma di tutti i quattro territori, nel senso Ancona, Senigallia, Fano e Pesaro che hanno diversi gestori, si faccia un'aggregazione senza perdere l'autonomia delle proprie aziende per far sì che in vista delle prossime gare che ci saranno ci sia la possibilità di mantenere le persone e le professionalità che abbiamo nella nostra città. Altro argomento, altre domande Silvano, culture ed eventi. Parliamo ora quindi di politica culturale e turistica, farò una domanda che questa volta è uguale per tutti e tre i candidati, partendo dicendo che il mare ovviamente insieme ai beni storici monumentali è il nostro petrolio di casa, insomma basti pensare ad un eventuale ritorno della statua dello scultore Lisippo, inoltre dobbiamo anche considerare che l'offerta culturale a Fano è già abbastanza ricca e anche molto variegata, questo lo possiamo confermare. Poi eventi come il carnevale, passaggi festival e anche Fano jazz attraggono presenze anche da fuori città. Ecco, in sintesi che cosa pensate voi riguardo alla politica culturale e turistica da sviluppare per i prossimi anni? La domanda per primo la rivolgo a Stefano Marcheggiani. Sì, dunque per noi, lo abbiamo scritto nel programma, la cultura deve essere un elemento trasversale a tutti i campi di attività dell'amministrazione, come atteggiamento. Per quanto riguarda nello specifico quello che si mette in campo da anni, proteggere gli eventi che sono stati consolidati, che sono conosciuti, che anzi garantirgli una esistenza almeno sul quinquennio per fare le giuste programmazioni, le giuste prenotazioni di artisti, di scrittori e quant'altro. Questo lo dico perché la razionalizzazione dei costi sarà importante in futuro, perché non avremo più i finanziamenti su alcuni settori che sono più avuti negli ultimi anni, quindi bisogna fare una cosa intelligente e oculata, non espanderei con nuove aggiuntive iniziative perché l'armatura di queste opportunità c'è già a Fano, le proteggerei, le migliorirei, tenendo conto che vanno sostenute anche le associazioni culturali che fanno un lavoro diverso, sono capitale sociale, che disseminano cultura tutto l'anno. Poi cultura e turismo, io sono uno dei più convinti assertori di questo binomio, sotto il mio mandato erano unite queste due deleghe, non demonizzo ovviamente il fatto che il turismo è un'attività economica, ci mancherebbe altro, ma questo si risolve con un dialogo con l'assessore al commercio, indubbiamente, ma in Italia turismo e cultura sono necessariamente connesse nelle politiche perché siamo pieni di beni culturali, noi siamo una qualità turistica di mare come altre 4.500, graziosa, bella, bellissima anche in alcune situazioni, ma l'attrattiva maggiore, il valore aggiunto, la differenza, la possono fare quella rete di musei che stiamo mettendo in campo con un po' di fatica, ma anche nel medio periodo potrebbe essere fatta, e il far percepire una città che non lavori per spot, ma dia continuità, una mostra in 5 anni è un po' poco, avendo comunque una sala Morganti attrezzata e quindi intensificare anche queste offerte per creare un richiamo e un domani quando ci saranno i musei anche i viaggi di istruzione. Ecco, Luca Sirfilippi, si può fare di più? Io penso che le politiche culturali, soprattutto turistiche, vadano rilanciate, abbiamo veramente tante bellezze, tante identità che abbiamo solamente noi a Fano, perché dopo Roma siamo la città con più mura romane, quindi dobbiamo valorizzare la Fano romana e di Vitruvio, la Fano malatestiana, quindi tutta la Fano del Medioevo, tutta la parte anche del Seicento, del Barocco, San Pietro in Valle purtroppo è ancora chiusa, tutta la parte dei palazzi storici, le nostre colline, diciamo che abbiamo delle identità bellissime che dobbiamo valorizzare. Per farlo serve un'amministrazione comunale che faccia rete, faccia rete con tutte le associazioni culturali, chi organizza eventi anche di caratura nazionale che vanno promossi in maniera arretrata rispetto alle date di questi eventi, ma questo riguarda sia la cultura che anche il turismo, quindi tutte le varie iniziative di accoglienza turistica. C'è l'impegno mio sul carnevale ad esempio di aumentare il contributo, di far sì che vengono ampliati i capannoni dove si costruiscono i carri di carnevale e sistemati gli attuali capannoni che sono in una situazione indecente. Detto questo è importante però sul turismo ad esempio fare un piano delle strutture ricettive, questo è l'impegno che mi prendo e che ci prendiamo perché spesso ci riempiamo la bocca di turismo e poi non abbiamo la possibilità di ospitare i turisti, penso ad esempio alle iniziative sportive, alle iniziative culturali o alle iniziative turistiche, quindi è importante parlare con gli imprenditori attuali, non denigrarli sui giornali come purtroppo è caduto in questi anni e eventualmente ampliare le strutture ricettive per riamodernarle e crearne di nuove. L'ultimo hotel risale a più di dieci anni fa, quindi ci fa capire la situazione che c'è nella nostra città per quanto riguarda le strutture ricettive e dopodiché è importante veramente valorizzare quello che abbiamo perché sulla cultura abbiamo sia grandi eventi ma anche tante iniziative che vanno avanti durante tutto l'anno che devono essere sostenute dall'amministrazione comunale in maniera trasparente con dei bandi, qualcuno si riempieva la bocca di bandi e poi ha dato 22 mila euro a un'associazione fuori dalla città di Fano. Ecco, chiudiamo questo giro con Cristian Fanesi. Pre. I pilastri su cui si basa la nostra politica culturale sono conservazione, valorizzazione e integrazione. Fano una città fantastica, ogni giorno quando si apre un cantiere troviamo delle cose eccezionali che ci riescono a dare anche, aggiungere un pezzo di storia alla nostra città e questo è certamente una cosa molto positiva. Sarebbe bello che il provveditorato, la sovrintendenza, riesca a continuare gli scavi per confermare la presenza della Basilica di Vitruvio. Sarebbe bello anche che il comune di Fano, e lo farò se sarò sindaco, potesse contribuire a fare dei saggi per capire meglio qual è la storia della nostra città. La valorizzazione, la valorizzazione a Fano ci sono degli esempi eccezionali. Il Pincio che abbiamo restaurato, abbiamo fatto diventare una seconda piazza nel centro città, la Rocca Malatestiana che è diventato uno spazio per eventi, così come il Bastione Sangallo. Da ultimo alcuni interventi che abbiamo fatto per dare bellezza alle presenze storiche della nostra città, come il restauro di Piazza Marcolini. Questo è quello che si dovrebbe fare cercando di riutilizzare anche quegli edifici che ci sono stati lasciati dalla storia e che questa città sono tanti. Ad esempio Palazzo Marcolini potrebbe diventare uno spazio sia per la formazione, sia anche per mettere dei laboratori, degli spazi espositivi per l'arte figurativa, l'arte scultoria e questo per il centro. Ma non basta, servono anche più spazi per produrre arte, più spazi per esporre, più spazi per provare e accogliere persone. Ad esempio l'hangar dell'ex campo di aviazione potrebbe essere una struttura da 100-150 posti anche a vantaggio dei giovani di Fano. Bene, grazie. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo nei nostri studi a tra poco. Bentornati in diretta ad Occhio al Voto. Ora ripartiamo dalla richiesta arrivata dal tavolo economico di cui fanno parte tutte le categorie economiche della città. Il tema è quello della riscossione dei tributi per la quale il Comune, tramite un bando, ha incaricato una società esterna. In questi ultimi anni però, così come riportato dalla stampa locale e anche da Fanu TV, questa società ha inviato sanzioni anche corpose a tante aziende e a privati cittadini. In molti casi era stato effettuato un ricalcolo delle metrature. Come associazioni ci è stato precisato, ci siamo fatti carico delle stanze dei commercianti, i quali hanno lamentato anche della poca trattativa con gli uffici per le dilazioni di pagamento di importi di migliaia di euro. In molte riunioni il tavolo economico aveva chiesto al Comune di revocare l'incarico affidato a questa società ma senza successo, visto che il mandato scadrà a metà del prossimo anno. Le associazioni propongono di affidare l'incarico al personale interno del Comune di Fanu o a quello di AZSPA. Accoglierete queste soluzioni, Sir Filippi? Allora, la proposta che viene dal tavolo economico è una proposta interessante che a mio avviso deve essere valutata, ma in anticipo nel senso che serviranno mesi per assumere personale e formare persone. Di certo c'è che l'azienda che è stata incaricata purtroppo sta facendo veramente, purtroppo, cassa sulle tasche dei cittadini e di tante imprese. Personalmente ho anche presentato diverse interrogazioni in Consiglio Comunale perché in molte situazioni purtroppo si è verificato e si verifica tuttora che cavilli burocratici oppure a volte mancata coincidenza di catasto, quindi di schede mappali, hanno fatto sì che l'azienda inviasse delle cartelle ai cittadini e i cittadini pur di non pagare l'avvocato hanno preferito pagare purtroppo la bolletta. Ecco, questo ci sembra un metodo poco corretto anche nei confronti di quelle persone che sono in difficoltà economica o anche di tutti i cittadini che comunque lavorano o che danno lavoro nella nostra città. Quando noi avevamo proposto, ad esempio, di affidarla ad Aset era proprio perché, partendo dal presupposto che tutti devono pagare le tasse, ma un conto è se l'aggio rimane all'interno del Comune o dell'azienda partecipata del Comune, un conto se l'aggio invece va nelle mani di un privato. È chiaro che il privato cerca qualsiasi sentenza nazionale per aumentare le casse al proprio interno e a fare le spese purtroppo sono i cittadini e le imprese. Io mi prendo l'impegno di convocare immediatamente il tavolo economico per programmare insieme non solo la politica dei tributi, che comunque è molto importante, ma anche tutte le politiche cittadini, perché sul tavolo economico ci si deve credere per davvero e non basta convocarli qualche mese prima di qualche iniziativa o per le conferenze stampa. Serve un tavolo economico permanente con tutta la Giunta. Fanesi, che cosa risponde? Quali sono le sue intenzioni? La risposta è molto semplice, chiara. Sono a favore del ritorno all'interno dell'amministrazione comunale della riscursione dei tributi. Ovviamente sarà questo un percorso lungo, di formazione anche del personale, ma questa è la prospettiva che ci dobbiamo porre e dobbiamo farlo anche in tempi rapidi affinché vengano ascoltate prima di tutto le richieste del tavolo economico ma anche le richieste di flessibilità che da tante parti ci giuncono, sia dai privati cittadini che dall'azienda. Quindi un percorso che dobbiamo aprire per far tornare all'interno del Comune di Fran, la rispressione dei tributi, è un percorso di cui abbiamo parlato tante volte col tavolo economico ed è giusto che questo avvenga presto. Il tavolo economico è stato istituito ed è uno strumento dalla Giunta Seri ed è uno strumento molto valido per poter dialogare con le associazioni che rappresentano tante aziende della nostra città e quindi bisogna valorizzare quanto di buono è stato fatto e bisogna anche trovare soluzioni affinché il cittadino si trovi sempre a suo agio nei confronti dell'amministrazione comunale anche quando è ora di pagare le tasse. Marchegiani, come pensate di risolvere questa situazione e quindi come gestirete la riscossione dei tributi? Io penso che gli anni che sono trascorsi dal bando dovevano aver messo in condizioni l'amministrazione di preparare del personale. Io vorrei verificare ovviamente essendo d'accordo a riportare in auso questo servizio importante che non solo tecnicamente ma anche per la sensibilità e la delicatezza di alcune operazioni è bene che se ne faccia carico all'amministrazione comunale verificherei anche con Asset perché Asset ovviamente gestisce non solo l'acquedotto, l'origine ambientale, le reti idriche, il gas ma anche il parcheggio a pagamento, la discarica, la manutenzione delle caldaie, una volta anche i tributi la holding ci aveva, quindi non vedo perché questo servizio non possa ritornare nella municipalizzata che forse ha una maggiore tempestività nell'attrezzarsi e poi sono anche io d'accordo che è stata buona l'esperienza del tavolo economico e quindi che vada continuata, rafforzata perché si è creato un buon clima di cooperazione. Ecco, su questa cosa dell'appalto esterno io l'avevo inteso all'epoca come una cosa a termine di per sé che in qualche modo deve essere risolta prima possibile perché insomma su queste situazioni è bene che l'ente pubblico abbia un controllo preciso e anche un rapporto con eventuali debitori che possono interfacciarsi con la loro amministrazione. Lorenzo, a te la parola. Parliamo del polo logistico. Cristian Panesi, sull'area dello zuccherificio, dismesso da oltre 30 anni, le ultime tre amministrazioni comunali di Fano, Carnaroli, Aguzzi, Seri, hanno elaborato nel PRG dall'inizio degli anni 2000 una conversione urbanistica che prevedeva una zona mista, residenziale, commerciale e di servizi, che per dinamiche diverse, soprattutto per l'iniziativa della proprietà, è stata sempre azzerata mantenendo la destinazione incongrua rispetto al fatto che la zona è inglobata nella città, produttiva. Lo stesso ha fatto la sua amministrazione uscente, cancellando peraltro la programmazione partecipata. La domanda è perché non collocare il polo logistico alimentare previsto ora l'ex zuccherificio in seguito a un emendamento in extremis del sindaco, dove è naturale che stia, per esempio, nella zona industriale di Bellocchi, governando i rapporti con gli industriali invece di subirli come è avvenuto negli ultimi vent'anni. E che impegni prende per il ripristino del divieto di insediamento dell'industria insalubri di prima e seconda classe nell'area dove ora si trova la torrefazione, che è stata autorizzata nel 2016, nonostante sia insalubre di seconda classe, aggirando di fatto il divieto che c'era nel PRG in seguito alla raccomandazione dell'ASUR del 2009 per la prossimità della scuola primaria. Il tema è molto delicato, ma anche molto importante per il futuro della città. Gli impegni che ho preso, anzi oggi ho incontrato il Comitato dei cittadini che, insomma, in quella zona si sono formati e che non solo in quella zona hanno iniziato anche una raccolta di firme, è stato un incontro positivo, ho avuto anche il coraggio di affrontarli perché credo che un amministratore pubblico deve sempre parlare con tutti. Le soluzioni che si possono trovare sono quelle che ho già scritto e poi consegnerò una cartellina o tre copie per la stampa perché noi vorremmo ripristinare in fase di adozione del piano regolatore il divieto di industria insalubri di prima e di seconda classe sui due campanoni esistenti in uno dei quali trova sede una torrefazione. Questa è una soluzione semplice che si può fare, in questo momento di transizione non possono effettuare degli interventi perché vige sia il piano regolatore appunto a Guzzi sia quello che abbiamo appena proposto e quindi questa è la soluzione che abbiamo trovato per tranquillizzare comunque un quartiere e per evitare che in futuro possano crearsi altre industrie insalubri di prima e seconda classe. Per quanto riguarda invece gli scheletri attuali dell'ex zuccherificio io sono convinto che una soluzione possa essere quello di realizzare un polo logistico alimentare dove non viene prodotto nulla ma vengono solo stoccate le merci e cercando di mitigare l'impatto effettivamente che ci sarà dell'aumento del traffico. Questa è una decisione che abbiamo preso nel Consiglio Comunale, l'abbiamo presa insieme, anche altri competitor hanno come dire accettato questa proposta in fase di deduzione anche il candidato Marcheggiani. Allora Stefano Marcheggiani lei appunto in Consiglio Comunale sull'osservazione dei residenti che volevano il ripristino della zona mista si è astenuto accampando che ha interessi economici da difendere alludendo a un eventuale ricorso della proprietà. Diciamo che non è stata un'uscita molto sicura o autorevole, quantomeno considerando il voto a favore espresso da diversi altri consiglieri che ugualmente per così dire tengono famiglia. Ora lei è l'unico che propone se sarà eletto sindaco il trasferimento del polo logistico dall'ex zuccherificio vicino al casello della 14, un altro posto dove può correttamente stare. Un'opzione però contrastata dai suoi avversari i candidati sindaci che alludono alla vicinanza dell'abitato di Sant'Orso. Quindi si tratta di barattare i residenti dell'ex zuccherificio con quelli di Sant'Orso? Evidentemente no. Io dico che come avviene ad Ikea, a Iesi e in altre situazioni, evitare l'impatto con la viabilità urbana di mezzi molto impegnativi dimensionalmente, molto impegnativi dal punto di vista numerico e io sono stato il primo a porre il problema degli autoarticolati perché se si dice che il polo logistico movimenta 40 mezzi, se si dice che ne movimenta 200 più i forconcini dei padroncini, arriviamo a 500 mezzi al giorno. Ci sono dati che abbiamo continuato a raccogliere in questi giorni che costituiscono il vero allarme ambientale perché come si dice il polo logistico è un magazzino che deve essere realizzato con tutti i crismi, che non produce nulla di particolare, ma produce una, se fosse realizzato lì su che erificio, un intasamento dell'Adriatica e degli interquartieri, dal nostro punto di vista inaccettabile urbanisticamente, non c'è uno studio di impatto ambientale, alla richiesta di queste informazioni non abbiamo avuto nemmeno in consiglio numeri precisi, ce li siamo documentati per conto nostro e siamo andati da chi produce camion che servono i poli logistici e da qualche polo logistico di minori dimensioni che ha numeri ancora maggiori. La preoccupazione quindi è vera, dove si deve mettere se c'è uno spazio? Dove non ci sono le condizioni che io ho appena descritto? Quindi vicino all'autostrada non c'è il posto vicino all'autostrada, è una zona industriale? Bene, se non c'è questo luogo significa che urbanisticamente la città non è pronta per recepire questa funzione, che non è una preoccupazione per chi gestirà poi i supermercati che verranno riforniti, è una preoccupazione degli investitori che vogliono realizzare un'operazione immobiliare e venderla. Poi sull'altra questione c'è una lettera in prefettura dove abbiamo richiesto, non solo io, se le modalità di svolgimento del Consiglio Comunale in sede di adozione delle contro deduzioni e approvazione è quella che si è stata descritta, perché le cose paventate, io ho cercato di dirlo apertamente, sono contrario, ma mi devo astenere perché sì, tengo famiglia. Bene, Luca Servilippi, lei ha rivendicato la sua autonomia politica dal suo datore di lavoro Giancarlo Paci che con Paolo Andriani ha chiesto al Comune il polo logistico all'ex sacrificio, sottolineando che dei tre candidati a sindaco è l'unico che ha votato a favore dell'osservazione dei residenti che intendevano ripristinare la destinazione mista in quell'area. Per la verità però sulla seconda osservazione relativa al ripristino del divieto per le aziende insalubri di prima e seconda classe è uscito dall'aula, può spiegare quindi ora perché? E anche per lei vale la medesima domanda posta a Fanesi, dette le riserve sue su Sant'Orso e il casello della 14, perché non va bene l'area industriale per il polo logistico dove peraltro Paci e Andriani hanno proprietà e uno dei comparti previsti risulterebbe agli uffici del Comune libero e di dimensioni compatibili con il polo logistico di 40.000 metri quadrati? Bene, allora innanzitutto è bene precisare che noi siamo stati gli unici ad aver votato contro il piano regolatore e se questo piano regolatore è stato approvato è grazie ai voti favorevoli sia della compagine che fa riferimento a Fanesi sia a Stefano Marchegiani che è rimasto in aula senza far mancare il numero legale, quando avrebbe dato la possibilità alla futura amministrazione di riprendere in mano le osservazioni di cittadini e residenti e migliorare un piano regolatore vecchio e fatto agli ultimi dieci giorni del mandato, quindi lasciando alla prossima amministrazione un macigno importante. Perché dico questo? Perché ad oggi l'unica modalità che abbiamo per migliorare questo piano regolatore è quello di recepire le osservazioni che ci preverranno dalla provincia e migliorare l'attuale piano regolatore. Dico questo perché a mio avviso il polo logistico non doveva essere realizzato all'ex sacrificio, ho votato contro alla realizzazione di questa previsione urbanistica, ho attaccato, passatemi il termine, a Marchegiani perché è importante comunque essere trasparenti con i cittadini quando si cercano di prendere dei voti legittimamente perché spostarlo a Sant'Orso a mio avviso non è la soluzione migliore, non c'è lo spazio e siamo vicini a molte più case rispetto allo zuccherificio. Detto questo è importante se diventerò sindaco avviare un'interlocuzione con la proprietà, io anche se tengo famiglia non ho paura a votare contro anche ad interessi industriali che sono legittimi, ma a mio avviso un sindaco deve essere super parte se non deve avere paura di nessuno. La salute va sempre tutelata e la mia uscita dall'aula sull'altra cosa delle aziende insalubri è perché avevo un altro impegno concomitante e il centrodestra ha votato in maniera unita e compatta contrario. Grazie Serpino e passiamo ad un altro argomento interessante, i possibili assessorati. Sì, voglio togliermi una curiosità, penso che la vogliono sapere anche i nostri concittadini che siano curiosi di sapere come formerete la giunta una volta eletti sindaco. Comincerei con Stefano Marchigiani, lei finora non si è mai espresso pubblicamente sulla composizione di una sua eventuale giunta, quindi cosa farà? Ha in programma di assegnare una poltrona per ciascuno delle cinque liste che lo sostengono oppure i Cinque Stelle che è un po' il gruppo che ha maggior peso all'interno della sua coalizione, ha già avanzato qualche richiesta esplicita. Replico a Serfilippi sulla domanda di prima, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, parlo dei cittadini di Sant'Ossio, non ho mai detto che si fa un polo logistico da 40.000 metri quadri nel quartiere di Sant'Ossio, togliamo sta sciocchezza dal dibattito. Ho votato sì al piano regolatore perché cosa sarebbe successo, bene che lo sappiano, se entro agosto non avremmo fatto una revisione del piano regolatore, l'attuale piano regolatore che è più moderno e migliorativo rispetto a quello di Aguzzi sarebbe decaduto. Cosa succedeva urbanisticamente? Che non prima di cinque anni sarebbe potuto fare un nuovo pug con i nuovi studi dei settori, perché nel frattempo la Regione ha cambiato la legge urbanistica, quindi aver approvato un piano regolatore facilmente migliorabile con le vecchie normative, è un passo avanti per la città, è comunque un piano regolatore che dà vantaggi rispetto al vecchio di Aguzzi, quindi ho votato in scienza e coscienza, penso bene, venendo alla giunta, beh intanto vediamo come vanno le votazioni e noi ci candidiamo a governare la città, poi come sempre avviene, no, non se n'è parlato tra gli alleati perché lo sforzo è stato fatto quello di proporre il nostro programma alla cittadinanza, di girare per quartieri e frazioni, è una compagine piena di competenze, quindi non ci sarà difficoltà a fornire delle rose al sindaco per scegliere tra donne e uomini nei vari assessorati, non se n'è mai parlato ma io userei sempre il criterio del consenso che una forza ottiene, della rappresentanza che mette a disposizione e anche il criterio di chi non dovrebbe avere soddisfazioni ma che ha partecipato con entusiasmo a questa avventura e mette a disposizione uomini e donne di grandi capacità. Ecco, Luca Serfilippi, lei parla di cambiamento, di nuovo disegno per Fano, però nelle liste che lo sostengono ci sono anche tanti ex, cioè personaggi che hanno ricoperto in cariche i politici già tanti anni fa, quindi dove sta allora il cambiamento che propone? Beh innanzitutto ci tengo a precisare che ci sono solamente due candidati su 124 candidati consiglieri che hanno già avuto l'esperienza di assessore, tra l'altro uno di questi con me, diciamo, quindi abbiamo fatto tre anni e mezzo di assessori e ci definiscono come responsabili delle tante sciagure, delle varie giunte a guzzi, in verità ci sono tante persone, premesso che non sono anni sciagurati, ma anzi anni molto difficili che abbiamo attraversato col patto di stabilità, ma noi abbiamo una compagine veramente di tante persone, tanti imprenditori, tante persone anche pensionate, giovani, meno giovani della società civile che hanno deciso di impegnarsi. Per quanto riguarda la domanda sugli assessorati non c'è nessun toto assessore, abbiamo 5 liste di cui 3 partiti e 2 liste civiche, ognuno sta dando il massimo per ottenere il miglior risultato personale, il miglior risultato come partito di coalizione. È chiaro che in base al risultato dei partiti e anche delle persone che sono candidate, sceglieremo le migliori persone che abbiano ottenuto il miglior risultato, ma anche in base alle competenze, perché ovunque vado in città mi chiedono, guarda Luca, quando farai la giunta, scegli le persone giuste al posto giusto. Questo sarà un criterio, insieme anche a quello della rappresentanza femminile all'interno della giunta, sulla quale non potrò prescindere, perché Fano merita di avere le persone giuste al posto giusto. Fanesi, lei ha vinto le primarie di un soffio contro Mascherin, poi subito dopo, qualche giorno dopo, si è seduto al tavolo proprio con lo stesso Mascherin e anche con gli assessori uscenti Cora Fattori ed Etienne Lucarelli, quindi la domanda è facile, in questo caso metà giunta è fatta. Prima però vorrei replicare a una cosa inesatta che è stata detta prima, se mi permettete, perché vorrei leggere quello che diceva Luca Sertilippi in fase di approvazione dell'amendamento che riguardava il polo logistico. Oggi invece per fortuna, e speriamo, aggiungo io, grazie ad alcuni imprenditori locali, forse quell'area riavrà una nuova vocazione e quindi è evidente che insomma questa è la posizione presa a microfono. Per quanto riguarda invece gli assessorati, ovviamente ho l'imbarazzo della scelta. Abbiamo fatto un percorso particolare, abbiamo fatto le primarie, il secondo classificato è stato Samuele Mascherin, con cui credo avremo un rapporto molto importante all'interno della prossima amministrazione, Cesaro Sindaco, però la mia squadra, la squadra che abbiamo messo in campo è fatta di tante persone, donne e uomini, che hanno qualità ed esperienza e molto spesso anche tantissimo entusiasmo. Quindi non avrò problemi a scegliere le persone giuste al posto giusto e non avrò problemi ad avere persone competenti, concrete soprattutto, da mettere negli assessorati più importanti e spero davvero che la squadra che abbiamo messo in campo possa governare bene questa città, guardando al futuro e non al passato, guardando a quello che serve alla città, ai nostri concittadini e soprattutto al bene di tutti quanti. Ma sarà una giunta che cercherà di dialogare con la gente, sempre e comunque. Passiamo ora al centro storico. Il comitato dei residenti ha redatto un documento programmatico per la prossima amministrazione comunale. Tra i punti principali, e vediamo insieme alla grafica, rientra l'istituzione di un tavolo di dialogo continuativo tra amministrazione e comitato al fine di condividere le scelte per il centro storico, ad esempio mediante un patto di cittadinanza, quiete pubblica e regolamento acustico che garantisca l'osservanza delle normative nazionali ed europee ed impedisca la proliferazione di deroghe alle attività e manifestazioni musicali. Inoltre è richiesta l'adozione condivisa tra le varie categorie di un regolamento comunale in materia di acustica ad oggi mancante. L'altra tematica riguarda i parcheggi. Il comitato chiede aree di sosta e abbonamenti calmerati per i residenti. Oltre all'acustica e ai parcheggi, vi chiedo se avete l'intenzione di ampliare la ZTL. Ser Filippi, quali sono i vostri progetti? Sì, innanzitutto rispondo a Fanesi che mi viene da sorridere quando legge quelle mie dichiarazioni perché dovrebbe leggere tutto il mio intervento, altrimenti purtroppo è travisare le mie parole, anche perché la mia intenzione da sindaco è quella di far sviluppare la città di Fano, tutte le aree, comprese l'ex sacrificio, che doveva essere condiviso in altro modo, con i cittadini e in maniera trasparente. Detto questo, invece, tornando al centro storico, i temi sollevati dal comitato sono temi veri, importanti. Io attualmente vivo in centro storico e tocco con mano le difficoltà dei residenti della nostra città. Purtroppo non è stata mai fatta una ZTL vera, quindi ci sono ingressi in ogni orario, sia in corso Matteotti che nelle vie della nostra città, quindi serve una ZTL vera. Servono dei parcheggi a servizio del centro storico e del lungomare, perché purtroppo una delle carenze maggiori che abbiamo è quella dei parcheggi. Quindi l'impegno mio è di realizzare un parcheggio multipiano a servizio del centro storico e della zona mare. Inoltre ho proposto la possibilità anche di abbonamenti ad hoc dall'unidì al venerdì per i residenti nelle strisce blu, perché la maggior parte di questi parcheggi a pagamento sono sempre vuoti, lo vivo tutti i giorni, quindi lo tocco con mano. Dall'altra è importante il tema dell'acustica, perché comunque è importante rispettare le regole e far sì che ci sia una convivenza tra persone che comunque lavorano e che vogliono dare accoglienza turistiche, comunque far lavorare la propria attività e anche però il rispetto della quiete pubblica, perché comunque ci sono persone che vivono ed è giusto che possano riposare in pace. Detto questo è importante anche il tema della pedonalizzazione, io non sono per una pedonalizzazione completa, ma per una riduzione sicuramente del traffico in centro storico, ad esempio per quanto riguarda gli accessi del carico e scarico, perché purtroppo Fano è tutto tranne che sicura e concludo sul tema della sicurezza, perché per questa maggioranza non c'è un problema, ma io che vivo in centro storico ho paura a girare. Fanesi acustica, parcheggio e pedonalizzazione, su quest'ultimo punto insomma negli anni avete proposto diverse volte la pedonalizzazione, però ancora è stato fatto poco o nulla? Partirei dai parcheggi, serve un piano particolarizzato dei parcheggi a favore dei residenti del centro del centro storico. Serve un multipiano che abbiamo già individuato nel piano regolatore lungo l'asse di via Arco d'Augusto, quindi viale Cristoforo Colombo, serve però un parcheggio per residenti anche in centro e si potrebbe ricavare attraverso una piattaforma di 4 metri e 50 insomma per permettere di trovare 40-50 posti auto per i residenti dietro la scuola Olivetti. Quindi sono progetti concreti che si possono fare perché in questi anni ci siamo resi conto che il centro storico è diventato sempre più abitato da residenti, tante persone sono venute e continueranno, spero a venire abitare in centro a Fano e allora bisogna dare una risposta soprattutto per quanto riguarda i parcheggi per i residenti. Però siamo anche per l'estensione della ZTL, non parlerei di penalizzazione, parlerei di un'estensione della ZTL dove finalmente potranno essere messe le telecamere a controllo dei varchi dopo che abbiamo messo telecamere a controllo della sicurezza urbana in questa città e ne sono arrivate 165, ora ci concentreremo sulle ZTL e sul controllo accessi nei varchi della ZTL. La penalizzazione si può fare in forma temporanea, a tempo, per dare lustro ad alcune attività, per dare la possibilità di fare un passeggio più tranquillo, però noi siamo sostanzialmente per aumentare la ZTL e per far sì che l'accesso alla nostra città sia meglio regolamentato. C'è anche il tema del rumore, abbiamo stabilito una regola che a mezzanotte, anzi alle una, le musiche si devono spegnere e questo lo manterremo esercitando i controlli da parte della Polizia Locale. Marcheggiani, stessa domanda anche per lei su queste tematiche, quali interventi prevedete? Oggi io abito in centro storico anche io e si nota un certo caos, facilmente risolvibile perché se si regola il carico e scarico e lo si fa rispettare non può essere questa anarchia di orari indifferenziati. L'altra cosa è mettere telecamere che sorveglino alcune zone della ZTL come via Nolfi Nord che non lo sono sorvegliate, per cui è terra di nessuno e c'è una grande sofferenza dei residenti. Altre cose è segnalare con dei display a valle l'effettiva presenza libera di parcheggi blu perché altrimenti diventano dei rondò maniacali e la ricerca, il parcheggio non dimentichiamo che è anche un attrattore, un attrattore di sosta. Spero di trovare il parcheggio, in realtà si gira mezz'ora e non si trovano. Queste sono tecnologie che fanno può permettersi. Ovviamente vanno fatti altri parcheggi di cintura laddove c'è la possibilità di un interscambio sia nella zona nord di fronte al cimitero monumentale sia all'area, secondo me, dell'ex Cifre dove già c'è un parcheggio, si possono intensificare con piattaforma sopraelevata e si può anche tentare, ma anche lì, il grande bacino del Vittoria Colonna, questa scommessa affascinante di mettersi in dialogo con la proprietà per restituire alla città un grande complesso architettonico, una disponibilità di spazi e anche un centinaio di posti auto che potrebbe aiutare una transizione pacifica di una maggiore patronizzazione di via Cavour, a patto che ci siano i parcheggi. Sui residenti direi solo una cosa, facciamo per carità, se viene fuori un piano proteggiato va benissimo, ma alcune sacche di sofferenza dove davvero non c'è la possibilità di avere un parcheggio, io sarei per parcheggi bianchi a disco orario con permesso, cosa che funziona in altre zone del centro storico, perché poi in qualche modo abbonarsi a un parcheggio blu significa diminuire la rotazione e l'opportunità per tutti. Passiamo ad un altro argomento che riguarda davvero tutti ed è molto sentito quello della sanità, Lorenzo. Sì, Cristian Fanesi, lei in questa campagna elettorale ha protestato contro il governo regionale di centrodestra per lo stato attuale dell'ospedale Santa Croce, liste d'attesa, dotazione dei servizi e soprattutto carenza di personale e ha detto che è stato un errore abrogare l'azienda Marche Nord fondendola con l'area vasta e creando la nuova AST. Quindi lei era e sarebbe eventualmente favorevole nel caso in cui tornassi in auge alla costruzione del nuovo ospedale unico di Pesaro che era il fine istituzionale di Marche Nord come risulta dagli atti e che fu effettivamente temperato dal protocollo d'intesa del 2018 con la sopravvivenza dell'ospedale di Fano. Ma a Pesaro si sarebbero comunque allestiti 612 posti letto invece degli attuali 380 e quindi è evidente per una questione meramente matematica che a Santa Croce sarebbe rimasta una dotazione di servizi minima a partire dalle indigenze rispetto alla situazione attuale della quale per certi versi giustamente lei si lamenta. Per certe cose mi viene da sorridere perché effettivamente la scelta di fare un ospedale nuovo unico tra Fano e Pesaro fu presa nel 2011 dalla giunta Aguzzi di cui anche Sir Filippi faceva parte e fu indicato appunto la decisione che veniva presa dalla regione Marche di fare un nuovo unico ospedale per Fano e per Pesaro. Adesso quel progetto non c'è più inutile parlarne il tema che però vorrei sottolineare che sto sottolineando in campagna elettorale è molto semplice la sanità pubblica a Fano è sotto attacco perché sotto attacco perché il CUP che è diciamo la struttura che dovrebbe accompagnare le persone dovrebbe prenotare le visite specialistiche nei nostri concittadini non funziona. Quando rispondono comunque sia non riescono a prenotare le visite. L'azienda ospedaliera Marche Nord era una struttura dal punto di vista tecnico e funzionale anche dinamica. Arrivava prima a rispondere alle esigenze di un territorio. Inoltre gli operatori dell'ospedale Marche Nord hanno perso la fiducia nell'istituzione della sanità pubblica in quanto stiamo assistendo in questi giorni a disservizi, a chiusura delle sale operatorie, a dottori che se ne vanno, infermieri che preferiscono altri ospedali, anestesisti che si dimettono. E tutto questo agevola la sanità privata che in questa regione è stata scelta di fare, la regione ha scelto di dare 80 posti letto a una clinica privata di Pesaro, invece ad esempio confermare 50 posti letto all'ospedale Santa Croce di Fano. E questa è una battaglia che continuerà a fare perché è una battaglia giusta che serve per i nostri concittadini, per una sanità a Santa Croce ma anche una sanità che deve essere diffusa sul territorio. Ma questo è un altro tema. Marche Gianni, anche lei come tutto il PD nel quale ha lungamente militato era a favore del riassetto ospedaliero intorno all'azienda Marche Nord ricordato poco fa. Al contrario per la serie delle divisioni profondamente diverse il Movimento 5 Stelle è l'unico soggetto politico che ha sempre contrastato sia l'ospedale unico che l'azienda ospedaliera Marche Nord. Quindi ora lei che si ritrova a guidare la coalizione essendo il candidato sindaco anche di questa forza politica ha cambiato visione, che modello di sanità si impegna a perseguire se diventerà sindaco? Siamo di fronte al fallimento di un'esperienza, questo va detto, un ospedale fortemente tecnologico unico che non è stato realizzato e abbiamo trovato solo la chiusura degli ospedali di base e quindi il dramma. Quindi quella è un'esperienza da superare e cosa dobbiamo fare? Piangere su quello che poteva essere un progetto anche funzionale che se andasse spiegato bene aveva delle compensazioni forti nel territorio. Non ha funzionato. Bene, ripianifichiamo una proposta per il territorio e la ripianifichiamo costruttivamente anche nei confronti della regione Marche che da 4 anni sta gestendo la sua riforma. Che succede però purtroppo? Che la riforma che invece non voleva ripristinare solo gli ospedali di base, voleva fare ospedali d'eccellenza, vuole fare ospedali d'eccellenza da tante parti, è una riforma insostenibile, questo lo si sapeva prima e se si dimettono i dirigenti, si dimettono sì, qualcuno vuole andare in commissione, ma forse sarebbe restata la dottoressa Storti, ma quando ha visto le decine di milioni di tagli a fronte di una riforma così impegnativa, che peraltro dà anche la possibilità ai dirigenti di reperire, non si sa come, i finanziamenti loro, si dice non in mio nome o me ne vado. Poi c'è un tema che complica, non c'è ancora l'ospedale di Pesaro, che comunque è un ospedale unico, più piccolo, da 450 posti, che ancora però non si fa, e quando non si fanno le cose e si apre una clinica privata che avrà sale operatorie con un doppione di Pesaro, ma non l'integrazione con Fano, quindi due cose a Pesaro e nulla a Fano, le cose si complicano ancora per chi fa quel mestiere e non trova appetibile la carriera in nostro territorio. Se anestesistiche non si dimettono da Fano, si dimettono da Pesaro e il capo della sezione cardiologica di Fano che se ne vuole andare, sono sintomi molto importanti oltre le dimissioni dei dirigenti di cui abbiamo parlato. Cosa proponiamo? Noi proponiamo di, visto che c'è un'intensiva a Fano che resta, almeno di utilizzare l'equip mobile per far lavorare le sale operatorie di Fano. Fano deve diventare solo medicina d'urgenza, c'è questa palazzina in cui si destinano pochi soldi, poca cosa per Fano. Ser Filippi, lei ha più volte rivendicato che il Santa Croce l'ha salvato il centrodestra con la legge di riforma del 2022 dell'organizzazione sanitaria regionale. È anche vero però che l'atto aziendale della nuova azienda sanitaria territoriale che deve regolare i servizi in provincia è ancora una chimera, dopo l'ultima scadenza della fine del 2023 indicata dall'assessore regionale alla sanità Salta Martini. Siccome questo atto è stato rinviato a dopo le elezioni è forte il sospetto che contenga scelte impopolari. Lei è consigliere regionale di maggioranza quindi può garantire che i 50 posti letto di ortopedia e riabilitazione assegnati a Fano nel 2018 per la clinica privata di Chiaruccia che non si farà più e promessi alcuni mesi fa in consiglio comunale a Fano da Salta Martini. Nessuno può toccare i 50 posti letto assegnati alla vostra città, ha dichiarato. Finiranno effettivamente al Santa Croce? Sì, allora innanzitutto mi dispiace che i miei competitor non hanno detto in maniera chiara che siano contrari all'ospedale unico a Pesaro perché Ricci continua a rilanciare l'ospedale unico a Pesaro. Quindi siccome ci candidiamo sindaci di Fano io come ho sempre fatto in questi anni ho difeso il Santa Croce con i denti e se il Santa Croce è aperto vista la previsione del Partito Democratico di cui facevano parte entrambi perché un mese e mezzo che facciamo campagna elettorale, fanno campagna elettorale sulla sanità che è una competenza regionale, io in maniera chiara dico ai cittadini fanesi che il Santa Croce con me rimarrà aperto e avrà i 250 posti letto attuali, ospedale di primo livello con specializzazione di secondo livello. Dopodiché è chiaro che ci sono delle problematiche, ad esempio sulle liste d'attesa, noi siamo regione benchmark per quanto riguarda le priorità, quindi i primi dieci giorni per chi ha delle urgenze, ma tutto il resto è un tema nazionale che va risolto e per la quale vanno aumentate le risorse. Proprio oggi c'è un decreto del Governo nazionale perché il problema riguarda tutte le regioni d'Italia. Per quanto riguarda i 50 posti letto, io sono sicuro che rimarranno a Fano grazie a quel protocollo, non è vero che sono stati autorizzati, accreditati e convenzionati gli 80 posti a Pesaro, siccome noi discorriamo a Pesaro Fanno, purtroppo questo è un problema di noi fanesi, a Pesaro una politica lungimirante per quello che riguarda i pesaresi hanno avvallato la realizzazione di una struttura privata. Fano purtroppo in questi anni ha deciso di non decidere, pertanto i 50 posti letto sono rimasti, 80 posti letto sono rimasti lì. È chiaro che da sindaco mi impegnerò a difendere il Santa Croce sempre, non solamente un mese e mezzo prima delle elezioni come è avvenuto fino ad oggi. Ci sono delle eccellenze, dei professionisti che lavorano proprio oggi, è la notizia della Brest Unit, eccellenze che abbiamo nel nostro ospedale e che vanno tutelate. Io le ringrazio tutti gli operatori che lavorano e decidono di lavorare per la sanità pubblica. Ecco, io farei una domanda a entrambi i candidati del centro-sinistra perché se si dovesse arrivare al ballottaggio quindi tra il centro-destra e una delle vostre due liste, nell'interesse supremo di non lasciare via libera al centro-destra, quale atteggiamento pensate di tenere? Cioè farete un apparentamento oppure lascerete libertà di coscienza ai vostri elettori? Stefano Marchigiani risponde per primo. Sempre sulla sanità. Vediamo i fatti. In quattro anni l'ospedale di Fano è stato svuotato a favore di quello di Pesolo. È un fatto. C'è un enorme disagio negli operatori sanitari. Il Consiglio regionale può andare a trovarli quando vuole. Abbiamo un'ambulanza e mezzo. Giorni fa un nostro concittadino rimasto sull'asfalto mezz'ora perché nessuno lo soccorreva. È arrivata l'ambulanza di Pesolo. Il disegno che sta venendo fuori è ahimè quello, non quello che vogliamo noi. Noi vogliamo l'ospedale di primo livello e sarei contento dopo tante serate che il candidato della Lega dice che ci saranno specialità di secondo livello se stasera ce le dicesse perché sono in attesa di capire quali saranno queste specialità di secondo livello, no? Perché la legge le previsce anche nel nosocomio di Fano. Quindi noi vogliamo un ospedale di primo livello anche in coabitazione con qualche specialità di Pesolo perché ci sono 12 chilometri ma Fano che fa più visite di tutti deve avere questa dignità. Vorremmo anche una casa della salute perché superiamo di gran lunga 50.000 abitanti e questa benedetta RSA di cui non abbiamo nemmeno un posto, è una vergogna della regione Marche che è la regione maglia nera per chi è rinunciato e siamo terzi in classifica perché è rinunciato alle cure mediche. Quindi sul discorso con chi ci apparenteremo in caso di ballottaggio, io vedo una foto oggi, lo dico così, c'è un tema di valori. Il leader della Lega Matteo Salvini indossa la maglia della, una delle tante felpe, ma stavolta non è la felpa di un reparto nostro, è della decima mass, torturatore di partigiani, flagellatori dal 43 al 45 del sacco di resistenza, fascisti. Poi c'è chi chiede in queste ore le dimissioni del capo dello Stato e poi c'è il generale Vannacci. La mia storia personale mi impedisce questi apparentamenti. Anche io ho una piccola nota sulla sanità, non ho fatto in tempo dirlo prima, ho qui l'opportunità di dire che a Fano serve anche la casa della comunità perché le cure appropriate si possono dare in ospedale ma si possono anche programmare e sostenere a domicilio e questa è una prospettiva secondo me molto interessante della sanità attuale prevista nei piani, nel PNRR e quindi sarei molto contento che contrariamente a quanto fatto finora la Regione Marche potesse prevedere una casa della salute a Fano. Per quanto riguarda i ballottaggi noi siamo convinti di poter vincere al ballottaggio, abbiamo governato bene e crediamo di poter vincere al ballottaggio contro il centro-destra. Il nostro obiettivo è il centro-destra, in queste ore le sciavole sono tra il centro-sinistra e il centro-destra, la battaglia è aspra ma noi vorremmo e avremmo voluto avere una sinistra unita, affrontare questa destra rappresentata da Luca Serfilippi e questo è il nostro convincimento ancora. Ecco Luca Serfilippi invece il fatto di avere nelle sue liste alcuni candidati che erano stati annunciati in precedenza da De Leo che era un candidato sindaco che poi si è ritirato significa che c'è un accordo già con lo stesso De Leo più o meno segreto diciamo così ed eventualmente c'è anche una contropartita per avere questi voti? No, assolutamente no, non c'è nessun accordo con De Leo, di certo ci siamo visti, ci siamo incontrati, diverse persone hanno deciso di sostenermi e sono molto contento di questo. Devo però ribattere perché finalmente hanno calato la maschera perché io da tempo sostengo che gli altri candidati sono due facce della stessa medaglia ed è chiaro che se andremo al ballottaggio ci sarà un accordo tra di loro. Io sono il candidato di tutta la coalizione per Fano, quindi ci sono tutti i partiti centrodestra, c'è la mia lista civica Fano cambia passo, c'è la lista civici Fano. Quando uno si candida sindaco si candida sindaco di tutta la città di Fano anche di chi non mi voterà perché un sindaco rappresenta tutti e chi mi conosce sa come sono fatto che ho la schiena dritta e non pendo dalle labbra di nessuno, su questo non transigo. Per quanto riguarda l'ospedale di primo livello con specialità di secondo livello sono broncoscopia interventistica, allergologia, neuropsichiatria infantile, terapia del dolore, pneumologia e nefrologia. Sono reparti dentro il Santa Croce che non dovrebbero starci ma che io garantisco che rimarranno nel Santa Croce. Non un reparto in questi quattro anni e mezzo è stato trasferito a Pesaro. Questi sono i fatti. Per quanto riguarda il futuro del ballottaggio, se ci sarà, mi auguro che non ci sia, ma sono i cittadini a deciderlo, anzi l'invito a votarmi al primo turno. È chiaro che ci sono tante cose che accumulano una parte dell'elettorato che fa riferimento a Marchegiani perché abbiamo condiviso tante battaglie insieme e abbiamo votato coerentemente sempre insieme. Poi c'è anche la vicinanza di una parte del cifismo che fa parte della compagine di Fanesi che sono sicuro che in caso di ballottaggio con l'eventuale Marchegiani mi sosterrà. E noi chiediamo questa puntata con un appello al voto. Ser Filippi, riparto da lei. In 30 secondi perché i cittadini dovrebbero scegliere lei e i candidati della sua coalizione? Ma innanzitutto perché siamo una compagine unita con un programma chiaro. Purtroppo abbiamo visto le divisioni di questa maggioranza di centro-sinistra che ha portato in molte situazioni a purtroppo scelte di non decisioni. Io sono una persona giovane però anche con tanta esperienza amministrativa sia comunale che regionale. Potremmo avere una filiera di governo anche con la regione e il governo che Fano non ha mai avuto. Io vi chiedo di supportarmi e supportarci perché dobbiamo rilanciare insieme la nostra città di Fano. Cristian Fanesi, qual è invece il suo messaggio per i nostri telespettatori? Perché continuare a darvi fiducia? Noi siamo al centro-sinistra. Da dieci anni, in dieci anni di lavoro abbiamo creato una città più bella, più accogliente, più solidale, più aperta e dobbiamo continuare questo lavoro intrapreso in questi anni affinché si possa continuare e Fano possa essere sempre di più il posto migliore dove vivere. La vorremmo fare moderna, bella e abbiamo messo in campo persone concrete, serie e capaci. Lo faremo lottando per la salute, per il lavoro qualificato dei giovani e lo faremo. Stop al tempo. Marchegiani, perché votare e scegliere lei e la sua coalizione? Abbiamo un bel programma. Abbiamo donne e uomini nelle nostre liste, basta guardare la loro vita, che si mettono a disposizione generosamente della città con grandi competenze. Vogliamo una città che non abbia paura del futuro, vogliamo una città dell'innovazione, della creatività, uguale per tutti, dove nessuno venga lasciato indietro. Questi sono i valori che hanno cementato questa alleanza. Siamo disponibili a un confronto diretto con i cittadini, siamo per i consigli di quartiere per lavorare insieme con quel coordinamento di programmazione e progettazione per una città che vada avanti con fiducia verso il futuro. Abbiamo finito il tempo per tutti a disposizione. Io ringrazio e saluto i candidati sindaco, Cristian Fanesi della coalizione di centro-sinistra, Stefano Marchegiani della coalizione progressisti per Fano 2050 e Luca Serfilippi della coalizione di centro-destra. E poi i giornalisti Silvano Clappis e Lorenzo Furlani. Vi ricordo l'appuntamento con le urne dell'8 e 9 giugno. Si voterà sabato dalle ore 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23 insieme alle elezioni europee. Sarà fondamentale essere muniti di un documento di riconoscimento valido e della tessera elettorale. Lunedì 10 giugno, poi al pomeriggio seguiremo in diretta i risultati dello spoglio delle schede. Grazie ancora per essere stati con noi e buona serata a tutti. Grazie a tutti.